Non è una bella taglia tutta Dio Grazie a tutti. il pito c'è uno qua dietro al castello c'è uno 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 dietro al castello rientrate come rientrate giù le fasce assalto all'arma bianca perché sicuramente se l'acqua gli spetta ora guarda come avrà a rigua, si sono pronti fate una ciondata se c'erano il basso ti invece che cura le florte e la fredda e la tengo bravo un campo ma sta bene ma sta vuol me la maniare vuoi? 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 la maniare vuoi?